Topi, anzi ratti, grossi quasi come gatti, che zampettano qua e là per Palazzo San Domenico. Urge una disinfestazione e il comune chiude. Pertanto la sede di Palazzo San Domenico chiude per tre giorni, fino a sabato prossimo. Da tempo i dipendenti del municipio modicano lamentano la presenza degli ospiti golosi di formaggio. Ma il problema dei ratti non è l'unico che attanaglia Palazzo San Domenico. Tutta la rete di protezione posta sul latrio per evitare lo svolazzamento delle colombe, fin da subito molto criticata, fa impigliare i colombi che muoiono e finiscono in decomposizione. Proprio tre metri sopra il cielo dei turisti. Pessima vetrina per il bellatrio comunale. Intanto da oggi a lunedì chiude anche il plesso scolastico Giacomo Albo. Per pericolosa caduta di intonaci e per revisionare, così si legge, tutti gli intonaci pericolanti dell'edificio scolastico. Viene spontaneo chiedersi perché tra le tante centinaia di migliaia di euro spese da questa amministrazione non ci sia anche un budget per la messa in sicurezza preventiva degli edifici scolastici prima che qualche giovane allievo si faccia male.